Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 Il telefono fisso corre verso l'estinzione, titola così Repubblica riportando i dati dell'osservatorio trimestale dell'Agicom che ha registrato negli ultimi 12 mesi una riduzione di 510.000 linee In poche parole, gli italiani hanno staccato la linea telefonica, preferendo i cellulari Tu sei tra quelli italiani che preferiscono la scheda SIM oppure sei affezionata al telefono di casa e non vi rinunceresti? No, la scheda SIM, sempre Cioè, il telefono di casa preferisco non usarlo Perché non prende mai la connessione, perché è collegato a internet e non funziona mai né internet né niente Spesso si perde la linea, ormai è più conveniente telefonare col cellulare Quindi non pensi che possa esserci comunque una migliore qualità della vita senza il cellulare senza avere sempre l'invasione e di essere sempre raggiungibili? E' una cosa comoda però, perché si può mettere insieme il mondo lavorativo a quello che è il mondo dello svago e tutto in un unico apparecchio In più non c'è il problema di non essere reperibile se si è fuori casa C'è sempre la possibilità di essere reperibile, poi mal che vada lo speggo il cellulare Dipende, perché comunque il telefono fisso per quelle persone un po' anziane è sempre più comodo, secondo me Però il cellulare dà molti più vantaggi, nel senso si puoi connettere ad internet, puoi mandare messaggi, chiamare a costi anche comunque inferiori, per cui per i giovani secondo me è preferibile Quindi io mi trovo molto bene col cellulare, però ho ancora in casa il telefono fisso Personalmente proprio per quelle persone di una certa età che magari devono contattarti con il cellulare non sono molto pratiche Quindi secondo te quando non c'erano i cellulari la qualità della vita era migliore o peggiore rispetto a quella attuale? Ma forse era migliore perché rimeno controllato in certe cose, però adesso ti permette di essere più sicuro Quando ti sposti, magari insomma per qualsiasi cosa sei rintracciabile C'è il pro e il contro diciamo, quindi un po' rovescio della medaglia Però sì, prima indubbiamente erano più liberi, secondo me le persone, cioè le persone erano più libere però non è una cosa negativa avere i cellulari secondo me Affezionata alla scheda sim Perché vivo col cellulare e ormai contatto solo con Whatsapp, Facebook e non uso più il cellulare di casa che funziona tra l'altro pochissimo rispetto al telefono Nel senso che pochissime persone ci chiamano a casa, casa Ormai vivo solo col cellulare ma anche nella mia famiglia tutti chiamano col cellulare Nessuno più ci chiama a casa sul fisso, se non magari per venderci qualcosa o promozioni, quelle cose lì Secondo te quando non c'erano i cellulari la qualità della vita poteva essere migliore o inferiore rispetto a quello attuale? Inferiore, cioè è molto miglia adesso anche perché appunto i collegamenti sono migliori Mentre prima col cellulare forse era più difficile, cioè quello di casa era più difficile anche contattarsi Così è molto meglio Non trovi però che possa a volte essere aderisore invasivo avere sempre comunque la possibilità di avere il telefono, sempre la possibilità di essere contattati Quello sì, nel senso che io noto tantissimo che sono sempre sul cellulare quindi la stessa cosa vale per me come vale anche per gli altri secondo me Grazie